E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Sicuramente grazie alla squadra e al mister tutto quello che stiamo facendo e che sto facendo anch'io. Pensavi dopo le prime tre gare del campionato di ritrovarsi in vetta addirittura con un vantaggio di 5 punti sull'inseguitrice? Sì, abbiamo recuperato tantissimi punti. Penso che mai nessuno dopo tre sconfitte consecutive arriva un po' più di metà campionato a 5 punti di vantaggio. Beh, ora dopo le tre sconfitte ci siamo uniti, ci siamo parlati e siamo ripartiti, penso alla grande. Secondo te la classifica, io ho definito le sette sorelle in vetta alla classifica, a dire dal Sorrento fino al Cervinara sono tutte squadre forti. Secondo te quale di queste squadre, oltre alla tua logicamente, può impiezziarsi più da vicino, al di là della classifica? Beh, al di là della classifica, come abbiamo visto con la partita di ieri, il Cervinara ha fatto una grande partita, forse non meritava la sconfitta, però il calcio, diciamo, è anche questo. Beh, l'agropoli è un po' in difficoltà, ma sono sicuro che inizierà sicuramente di nuovo a fare risultati, così come la Virtus Avellino che sta facendo un cilone di ritorno davvero importante. Dove pensi che puoi arrivare nella classifica di Arnonino? Beh, spero di arrivare in alto, ma questo è... c'è prima la squadra, poi le soddisfazioni personali. Grazie per la visione!